Andiamo in diretta con le immagini al Quirinale per la cerimonia in occasione del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo con il Presidente della Repubblica Mattarella vedete inquadrato anche il Presidente del Senato Ignazio Larussa e ancora Mulec e anche la Premier Meloni prima il Capo dello Stato ha deposto una corona di alloro abbiamo le immagini che ci portano in via Caetani sotto la targa che ricorda Aldo Moro il Presidente della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate Rosse e il cui corpo fu trovato proprio in questa strada il 9 maggio del 1978 subito dopo la deposizione della corona un trombettiere ha intonato il silenzio in via Caetani anche il Presidente del Senato, il Ministro dell'Interno, il Sindaco di Roma e il Vice Presidente della Camera Giorgio Mulec che avete visto prima anche al Quirinale queste le immagini che si riferiscono a circa un'ora fa ma ripercorriamo cosa accadde il 9 maggio del 1978